Ben tornati in studio, vi ricordo che è in corso il nostro gioco per farvi vincere i due biglietti per CineCittà World. Andate sulla nostra pagina Facebook, il post che vedete fissato in alto con il logo di Buongiorno Lazio contiene anche una domanda molto semplice. Vi piace la festa di Halloween che è dedicata proprio al tema che stiamo per trattare. Basta commentare e sarete ricontattati e vi verranno consegnati questi biglietti per andare a passare una giornata in spensieratezza. Saluto e ringrazio il nostro ospite Don Leonardo Maria Pompei della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo a Sermoneta, una chiesa bellissima tra l'altro. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora Don Leonardo, c'è un grande dibattito su questa, chiamiamola festa, celebrazione che è entrata prepotentemente in Italia dall'America ed è diventata proprio un'abitudine, una consuetudine di tantissime famiglie italiane che si traversano, attraversano i bambini da morti, da zombie, da diavoletti e li portano in giro per le case a chiedere dolcetti. Ma oltre a questo si fanno delle vere e proprie feste nelle ville, nelle discoteche, nelle case. Celebrare la morte è un po' di cattivo gusto tanto per cominciare, al di là poi del problema religioso che ne scaturisce. Sicuramente, secondo me, certamente, senz'altro, non è una cosa di ottimo gusto, ma specialmente per noi figli di Dio noi celebriamo la vita, siamo un pochino più al positivo, tant'è vero che in questi giorni celebriamo il paradiso, perché prima il paradiso e poi il purgatorio, cioè le anime che passate a questa valle di lacrime, diciamo così, raggiungono la salvezza e la perfezione della felicità che è la beatitudine. Per i cristiani dovrebbe in ogni caso essere questa, a prescindere poi dagli idee che hanno circa questo evento, se sia una carnevalata macabra, una leggenda inglese o altro. Questo poi dipende dai tipi di informazione e dai punti di vista. Che cosa succede, secondo lei, quando una mamma porta un bambino a festeggiare questa notte? Allora, la risposta a questa domanda non può essere diretta, ma deve essere necessariamente articolata, perché se si risponde su un piano umano, l'ha portata a farsi una carnevalata un po' macabra, fine del discorso. Però purtroppo il piano umano non c'è solo questo in questa festa, perché questa festa purtroppo ha dei contatti col mondo delle tenebre, non soltanto per il folklore che mette in atto, ma anche per ragioni oggettive. Io ho portato con me qui due libretti, insomma, che sono da leggere, scritti in onda Rubagallina, nel senso che uno è Tonino Cartelli. Posso, così, li faccio vedere entrambi alla telecamera. Se qui si aprono, basta che non mi togli i segni. No, 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 faccio vedere solo la copertina per far capire. Sono testi scritti da criminologi, psichiatri, che hanno studiato. Quindi non l'ha scritti un sacerdote? No, no, nessuno di quelli è un sacerdote, quindi sono autori, poi li può anche nominare, insomma, sono facilmente reperibili in giro. Che cosa dicono? Allora, dicono semplicemente una cosa, entrambi, se uno apre il calendario satanico, vedrà che il 31 ottobre è il capodanno satanico, cioè le sette nere hanno, come noi, un proprio calendario. Lo trovo proprio al segno. Eccolo qua, eccolo, 13 dicembre, 21 dicembre, 31 ottobre. Attenzione, in questo capodanno si celebra uno dei quattro sabba. Cos'è il sabba? I sabba sono etimologicamente raduni delle streghe, significa, ma sono eventi particolarmente, che loro ritengono particolarmente, come dire, forrieri di, tra virgolette chiamiamo così, regali dall'oltretomba del male, diciamo così, quindi dove si danno particolarmente da fare. E questo è un punto oggettivo. Allora, e a noi che ce ne importa? Uno potrebbe dire questi fanno il sabba, fanno il pari loro e facciamo gli affari nostri. Io stasera vado a dormire e l'altro invece va a fare la festa a mezzanotte. Allora, qui si entra in un orizzonte di fede. Allora, l'orizzonte di fede, molto molto semplicemente, è questo. Un orizzonte di fede, ovviamente, la fede cattolica non è fideismo, nel senso di fede cieca, perché dentro la sua struttura, che comunque necessita di un atto di fede, ha una sua coerenza interna e logica. Che cosa dice la fede? La fede dice questa cosa qui, che Dio con noi ha un modo di agire chiaro, limpido e cristallino. Gioca a carte scoperte, nel rispetto della nostra libertà e animato dall'amore. Cioè, Gesù è venuto da letto, guardate che io sono il figlio di Dio, mi accredito come tale, faccio i miracoli, sono morto per te, sono risorto, ti dico che nel mondo ci sono questi problemi, ti apro le porte della salvezza, se vuoi, chiedi il battesimo e cominci a vivere come io ti ho insegnato. Punto. Molto semplicemente. In qualunque momento, se ci ripensi, se vuoi tornare indietro, nessuno ti tiene a catena. Se vivi con me, queste sono le conseguenze in questo e in un altro mondo. E punto. Il nemico di Dio, che è una verità di fede, anche questa qui, c'è chi non ci crede, gli angeli decaduti, non agiscono così. Loro non agiscono a carte scoperte, ma giocano a carte coperte. Loro non dicono mai la verità, ma dicono le menzogne. E raggirano le persone con gli inganni. Questa è una storia vecchia come l'uomo, perché, secondo il racconto biblico, il peccato originale è stato un inganno, un raggino, un blef. Voi sapete che dentro l'orizzonte di fede, qui parla il nome della Chiesa, non c'è nessuno, neanche delle più altre autorità che potrebbero smentirmi, la stessa morte corporale è una conseguenza del peccato originale. È evidente che Dio aveva in qualche modo avvertito i protagonisti. Il diavolo li ha reagirati, ingannati. Che succede? Mori. Ma non succede niente. Se fai quello che ti dico io, stare meglio di prima. E loro ci hanno creduto. Sono stati raggirati. Allora, che cosa raccontano? Quelli sono dati oggettivi di studiosi dei fenomeni delle sette. Poi ci stanno gli esorcisti. E uno dite, andrà a leggere. Che sono sempre di meno, tra l'altro. Sono quelli che hanno esperienza e che combattono queste cose. Loro ti dicono questa cosa qui. A parte che non solo questo, c'è anche un altro pezzo di un articolo che è uscito sabato scorso sulla nuova bussola quotidiana che vorrei leggere all'inizio. dove c'è proprio un satanista che parla di Halloween. Anton Laven, scusate, che è il fondatore della Chiesa di Satana. C'era pure in sito web. Che cosa dice su questa festa? Lo leggo subito. Non ce lo leggo. Tra l'altro vorrei fare un inciso. Non vorrei, non vorrei, prego. Vorrei fare un inciso, mentre lei cerca l'articolo, Don Leonardo, su quello che è accaduto. Questa tragedia a Seul, proprio durante questi festeggiamenti, questa calca, sono morte oltre 153 giovani. E la cosa che mi rammarica è che le celebrazioni vadano avanti in tutto il mondo. Mentre in realtà, mi permetto di dire, sarebbe stato molto bello se in tutto il mondo, in segno di solidarietà e di lutto per queste morti, avessero in qualche modo annullato questi festeggiamenti. Perché comunque sembra lontana la Corea, ma in realtà il mondo è piccolo piccolo e penso che un gesto di solidarietà sarebbe stato molto apprezzato e proprio in un clima di guerra che stiamo vivendo esprimere amore e vicinanza anche ad una popolazione colpita in maniera così tragica per una cosa assurda, tra l'altro, come quella che si è verificata a morire per essere schiacciati dalla calca, poteva essere un gesto di grande civiltà e magari avrebbe portato sì una goccia nell'oceano, ma piano piano ad arrivare ad la pace anche tra le varie nazioni. Parentesi chiusa. Prego, con l'articolo del relativo all'intervista questo signor satanista. È uscito il 28 ottobre un articolo a firma di Benedetta Frigerio, si intitola La risposta cattolica d'Halloween sono i Santi, che però esordisce in maniera adatta a un contesto di trasmissione televisiva perché ci sono le classiche frasi un po' a effetto, no? Ecco. Sono contento che i genitori cristiani permettano ai loro figli di adorare il diavolo almeno una notte all'anno. Quindi ha messo lui nella sua religione? Benvenuto ad Halloween a fare questa affermazione fu il fondatore della chiesa di Satan, Anton Lave, mentre a ricordare alla vigilia della festa dei Santi è John Ramirez, un noto predicatore americano, uscito anni fa dal satanismo. Prima di lui Torre Nervine, ex sacerdotessa satanista, poi convertita al cristianesimo, spiegò che se i padri sapessero il significato di questa festa non la nominerebbero nemmeno davanti ai loro figli. Nel suo libro Freed from Witchcraft, liberato dalla stregoneria, ha scritto Era importante dare alla stregoneria un nuovo aspetto e furono così stabilite queste linee guida. Non spaventare mai nessuno. Proponi nuovi regni del mistero e offri eccitazione. Rendi la stregoneria meno scura. Falla sembrare un'avventura naturale e innocente. Copri il male con involucri accattivanti. Quindi loro hanno ammesso che questa è una festa satanica. Allora, facciamo sempre un pochino perché io desidero aiutare le persone a riflettere. Che tanti potrebbero dire vabbè Don Leonardo è un sacerdote quindi lui è contrario a queste manifestazioni. Io non voglio assolutamente presentarmi in questo... Quindi qui abbiamo fatto l'inverso. Esatto, perché ci sono gli studiosi laici, ci sono i dati indubbiamente di fede. Come agisce Dio a carte aperte e nel rispetto della libertà e come agisce il mondo delle tenebre a carte coperte e nell'inganno e nel raggiro facendo sembrare bene il male e male il bene falso, il vero e vero il falso. E poi abbiamo queste testimonianze di tre soggetti. Un fondatore di una chiesa satanica, la realtà è stata online, purtroppo www.churchofsatan.com perché ha tanti seguaci. Si va da come, no? Sta un sacco di gente negli Stati Uniti. E due ex satanisti fuoriusciti che raccontano la loro testimonianza. Allora, che cosa significa questo qui? Noi non siamo, io non sono in grado di stabilire un nesso causale stretto, cioè dire che succede a sua figlia se partecipa a una figlia di Halloween. Questa è una domanda che potrebbe rispondere... Non sappiamo a lungo termine però. Esattamente, lo potrebbe rispondere con precisione. Però fa 5-10 anni... Probabilmente nell'immediato non succede niente. Però non succede niente a me, anche quando mi faccio la comunione. Anche quando lei si è fatta la cresima. Non credo che quando si sia cresimata, quando il Vescovo gli ha detto ricevi il seguito dello Spirito Santo che uno sente che che volo, dice che è venuto lo Spirito Santo. No, apparentemente può succedere qualche emozione sensibile, ma non sempre succedono, perché gli effetti di queste cose sono sempre indiretti. Perché sono cose sopranaturali, sono cose che non sono sensibili. Quindi lo comprendiamo indirettamente come dagli effetti che produce. Nel tempo. Benessere, serenità, pace, quiete, gioia, amore, propositività, oppure malessere diffuso, ansia, agitazione, negatività, disturbi di vario genere, fisico, psichico, morale, spirituale, famiglia... Cioè, noi sappiamo che tutto il male viene da una parte e tutto il bene viene dall'altra. Ora, saranno tutte quante stupidaggini queste qui, poi ogni coscienza deve riflettere e decidere. Però, a mio avviso, è prudente che quando c'è un possibile pericolo e quando si entra purtroppo dalle parti di chi ci vuole male, quello ci vuole male sul serio, non per scherzo, a mio avviso rischiare non è molto saggio. Cosa fare in chiusura stasera per, non contrastare, però... Ah, io sono anni. Per far cambiare idea a qualcuno, magari. Cambiare idea dipende. Che possiamo fare stasera? Cambia idea, chi accetta... Posso citare una bellissima frase dalla passione di Mel Gibson, bellissima, della moglie di Ponzio Pirato. Quando Gesù dice a Ponzio Pirato io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità, Pirato gli risponde, lo dico anche a Vangeli, e che cos'è la verità? E Gesù non risponde. A un certo punto si vede questo Ponzio Pirato che sta tutto agitato e parla con la moglie, con Procula, e gli dice Quid est veritas? Claudia, potes mi chi dicere? Che cos'è la verità, Claudia? Me lo puoi dire? Claudia lo guarda, dice, no, tu la conosci? Ita, gli dice, sì. Dice, e allora me lo dici pure a me? E lei gli risponde. Si non vis veritate maudire, nemo ti vi dicere potest. Se non vuoi ascoltare la verità, nessuno te la può dire. Allora, io non penso di far cambiare idea a nessuno, però cambio idea chi ha la mente aperta al confronto sincero, quindi a verificare. Tu c'hai delle informazioni, tutte stupidaggini, tutte cretinate, tutte uscite di un predo un po' particolare che chi lo sa che c'ha per la testa. Padronissimo. Le persone che desiderano approfondire, come detto il Signore del Vangelo, ci sono tanti modi. Chi cerca, trova. Trova. E quando cerchi, trovi sempre. Per cui se quello che io ho detto è vero, se una persona ha la mente aperta, lo riconoscerà come tale. Questo forse sarebbe un pochino presuntuoso. Se una persona c'ha pregiudizio, ha già deciso a priori e non vuole informarsi, ma io posso pure volare a testa sotto, non siete niente. Io questa notte la festeggerò come l'ho sempre festeggiata in lunga preghiera davanti al Signore. Perché mentre loro stanno in mezzo a cose maghe, però noi ce ne stiamo inserendo tanti, al Santissimo Sacramento, a pregare. Anche per questi... È un invito anche per chi vuole raggiungervi. Non succedano troppi guai. La parrocchia Santa Maria Assunta in cielo. Grazie. Ma tante parrocchie adesso stanno Tante, tantissime. Grazie a Don Leonardo Maria Pompei. Grazie per essere stato con me e averci portato un altro punto di vista. Mi raccomando, non toccate gli animali stanotte. Perché non si arrabbia solo Don Leonardo e chi sta lassù, ma si arrabbiano pure le forze dell'ordine e anche noi. Perché comunque domani mattina controlleremo la cronaca e quello che è accaduto stanotte. Grazie Don Leonardo Maria. Grazie a voi. Grazie a tutti.